confido in te si preparano assoluti 70 kg maschi Irene e Coppa Leonora vince Macanuso Lucas classifica il terzo posto scusate spazio Leonardo scusate spazio 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 Leonardo spazio Leonardo spazio Leonardo come si fa lavora solo per insalzatelo vado a ruotare mi sembra solo per le gara vince Marello cioè fare il tutto di carica cioè si può essere efficace brava cioè si passa male vai Alice tutta Tami Elena guarda ah vai si preparano schiena Darlene e stoppa Lorenzo a finare il terzo posto si preparano i di Marzoni in formato santo dai Alice dai 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 sei che il nome vado Dottore vado Dottore l'esercito e ai si dai 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 Grazie a tutti.